Puoi anche avere fatto grandi cose per Dio, addirittura essere stato designato da Dio come liberatore del popolo di Israele, eppure finire per perdere tutto nel giro di pochissimo tempo. Siamo nel deserto del Sinai, località di Kadesh, e come sempre purtroppo il popolo si lamentava, in questo caso non c'era acqua da bere, né per l'oro né per il bestiame. Mosè e Aronne, come spesso facevano in questi casi, si rivolgevano a Dio per avere indicazioni sul da farsi. E Dio parla chiaramente, prendi il bastone, convoca l'assemblea, parla la roccia, e l'acqua inizierà a sgorcare. Tutto abbastanza semplice, nessuna possibilità di fraintendimento, e tra l'altro non era la prima volta che Mosè e Aronne ricevevano indicazioni da Dio. Ora, sinceramente non lo so cosa sia passato nella mente di Mosè, e non sto qui a giustificare perché addirittura nemmeno Dio lo fece. Ma sta di fatto che in una manciata di minuti, il destino terreno di Mosè e di Aronne venne irrimediabilmente segnato. Mosè prese il bastone e convocò l'assemblea. E fino a qui tutto ok, così come Dio aveva richiesto. Il problema inizia da questo momento in poi. Mosè parla all'assemblea, non alla roccia. E dice, ora ascoltate, o ribelli, dobbiamo fare uscire acqua per voi da questa roccia? E poi percuote due volte la roccia. L'acqua esce. Il popolo e tutto il bestiame vengono dissetati. Tutti contenti, diremmo. Tutti felici. Missione compiuta. Missione compiuta, sì. Ma non sono tutti contenti. E ad essere scontento, anzi infuriato direi, è proprio Dio. Con quel gesto, infatti, Mosè e Aronne avevano dimostrato di non aver avuto fiducia in lui e di non avergli dato gloria in maniera pubblica davanti al popolo. Il giudizio di Dio è severissimo. Voi non entrerete nella terra promessa. E su questo giudizio Dio non tornerà mai indietro. Aronne, infatti, sarebbe morto senza vedere la terra promessa. E Mosè l'avrebbe vista da lontano, ma non gli sarebbe stato consentito di potervi accedere in quanto sarebbe poi morto prima. Ma cosa possiamo imparare da una storia così tremenda? Come sempre, tante cose utili per la nostra vita, per noi che oggi leggiamo questa storia. La prima cosa, con Dio non si scherza. Perché Lui non scherza con noi. Questo non significa avere paura, avere spavento di Dio, ma un profondo rispetto della Sua santità. Il giudizio di Dio su Mosè fu un chiaro monito anche per tutto il popolo e per noi che oggi leggiamo quello che è accaduto. Nemmeno Mosè, mio servo, può permettersi di fare come ritiene più opportuno. Seconda cosa, il miracolo non sempre è garanzia di approvazione divina. Lo so, questa cosa che ho appena detto sconvolgerà la tua vita e forse ti metterà in crisi, facendo crollare le tue certezze. Ma è quello che accadde quel giorno a Kadesh. Mosè e Aronne disubbidirono la voce di Dio, ma l'acqua dalla roccia uscì lo stesso. Questo non avvenne quindi perché Aronne e Mosè erano approvati da Dio, ma per la misericordia del nostro Signore, che vide il popolo assetato e non lo lasciò senza acqua. E terza e ultima cosa, ed è il mio pensiero su tutta questa storia. Dico mio perché la Bibbia non ci parla chiaramente di quello del motivo per il quale Dio continuò nel suo giudizio verso Mosè e Aronne. Ed è una riflessione che ho fatto insieme a Simon e dico conosci Gesù questa mattina. Mi sono confrontato con lui e voglio darvi il mio pensiero, la mia riflessione. Allora, non sono riuscito a trovare da nessuna parte della scrittura un momento in cui Mosè abbia chiesto a Dio di perdonarlo. Chi gli abbia detto, Signore, perdonami perché quella volta ho sbagliato nei tuoi confronti. Ti prego, fammi entrare nella terra promessa. Non l'ho trovato. Mosè non dice mai qualcosa del genere. E non credo per orgoglio, non credo per superbia. Me ne guarderei bene del dire questo. Ma forse magari Mosè conosceva talmente bene l'autorità di Dio che sapeva bene che quello era e quello sarebbe rimasto. Eppure, tante altre volte, di fronte a un giudizio di Dio verso il popolo, Mosè intercede e il Signore cambia idea. Allora, come mai Mosè invece non dice mai, Signore, perdonami? Signore, voglio entrare nella terra promessa. Credo che delle volte, fratelli e sorelle, amico e amica che stai ascoltando questo podcast, noi pensiamo che Dio non ci possa mai perdonare per quello che abbiamo fatto. Magari ho una disubbidienza molto grande. L'abbiamo fatta grossa, come si dice tante volte nel nostro gergo moderno. E non osiamo nemmeno dire, Signore, perdonami, perché immaginiamo che Dio non ci perdonerà mai. Bene, sappi una cosa, non fare come Mosè. Questa sera, se ascolti questo messaggio e forse nella tua vita hai fatto qualcosa di veramente grave, hai disubbidito in maniera palese alla volontà di Dio e magari forse ti trovi chissà dove lontano dal Signore, sappi che non c'è nessuna cosa così grave che Dio non possa perdonare se tu glielo chiedi. Dio non è troppo arrabbiato con te. Ma se tu ti umili, ti prosti davanti a Lui e gli chiedi, Signore, perdonami, Dio è potente da poterti ristabilire. Certo, ci saranno delle conseguenze che inevitabilmente dovrai affrontare, perché molto spesso il peccato porta con sé delle conseguenze che è difficile da cancellare. Però un conto è la conseguenza del peccato, un conto è l'entrare nelle promesse che Dio ha fatto per te. Quindi voglio adesso pregare in questo momento, insieme a te. Signore, vengo a te nel nome di Gesù. Ti voglio chiedere che ogni cuore che sia allontanato da te e soprattutto che ogni cuore che pensa che tu non possa perdonarlo, possa realizzare la grazia di Dio. Quella grazia che ancora ha cancellato i nostri errori, ha cancellato i nostri falli, i nostri sbagli. E per quella grazia, Signore, questa sera veniamo a te. E vengo a te nel nome di Gesù. E ti chiedo, fa che ogni cuore che crede che tu non lo possa perdonare possa realizzare invece il tuo perdono. che non possa più stare lontano da te, ma che possa entrare nelle tue promesse. Perché so bene, Signore, che quando qualcuno viene davanti a te, si umilia, prega e cerca la tua faccia, sì, Signore, tu perdonerai dal cielo. Tu perdonerai dal cielo, Signore, e darai una nuova possibilità. Ti chiedo questo, Padre, nel nome di Gesù tuo Figlio, benedetto in Eterno. Grazie, grazie di cuore per aver ascoltato questo podcast. Se hai qualcosa da dirci, ti chiedo gentilmente di scrivere nei commenti quello che pensi, se sei d'accordo con soprattutto l'ultimo punto che ho esposto. E se vuoi puoi anche mandarci una mail a zacchechloe.gmail.com Che Dio ti benedica e alla prossima puntata. Grazie a tutti.